Elena Pietrini si avvicina all'esordio dell'Italia nella qualificazione olimpica. Che torneo vi aspetta? Come ti immagini questa competizione? Come immagino non lo dico, però sicuramente sarà una competizione tosta perché tutte le partite saranno toste se non teniamo l'attenzione alta perché come magari sia già successo abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione e non è andata come volevamo, quindi sicuramente da parte di tutta la squadra ci sarà un buon livello di attenzione per risolvere meglio alcune situazioni. L'Italia si gioca tanto come le nostre avversarie. Nei mesi scorsi hai sempre detto che partecipare alle Olimpiadi è il tuo sogno. Come vivi questa attesa? La vivo con l'ansia perché essendoci in questo sogno spero tanto che si realizzi prima con la qualificazione poi forse se andrà tutto bene con le Olimpiadi però prima adesso voglio pensare a questa qualificazione perché è più importante adesso. L'Italia ha lavorato sodo sia a Lassio che in questi giorni come vedi il gruppo? C'è tanta voglia di riscattarsi dopo la Final Six? Direi di sì anche perché non è andata come volevamo la Final Six quindi beremo tutto qua adesso. Senti parenti, amici, qualcuno? Cosa ti dicono per caricarti? Sto sentendo i miei e mia sorella che mi sono molto vicini come sempre e infatti devo ringraziarli tanto perché loro sono la mia forza. Quanto conterà il pubblico di Catania? Tanto perché devono starci vicino per farci sentire il loro calore, il loro affetto per magari aiutarci con il loro tipo.